Musica Ladies and gentlemen e Messinesi non bentrovati di venerdì a mezzo DG Sì ultima puntata della settimana affinché il weekend vi possa ristorare tutti ma signora Mimma accusava un... Arriva 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 scusi signor Pieter Ma come mai oggi lo è dato signora Mimma? Ieri fuori un calcio... Secondo me lei sta prendendo una strada d'aceto No no signor Pieter mi devi perdonare un attimino quando prendo fiato sono trapelata un attimino Un attimino... Come scusi? Sono trapelata sono arrivata trapelata mi devi scusare Signora Mimma ma scusare chi sta capendo è trapelata Trafelata perché io che dico? No no niente niente ho capito male io No vado avanti vado avanti Pensi che avevo capito trapelata No signor Villeri Sì sì E perché sono di corsa Come mai è degusta signora Mimma che succedeva? Signor Villeri L'autobus non puoi chiestere perché ormai siamo negliati l'autobus Io stamattina con le sette mattinate Eh con le sette mattinate Sette mattinate si dice Sette mattinate si dice Le sette mattinate sono uscite Dessi io così mi sbrico presto E mi sono piazzata lì dove sapevo per il reddito di cittadinanza In che senso? Sono andato a fare la fila Per il reddito di cittadinanza Signor Villeri quando ero a metterlo Mi vado a dare E cominciarono a prendere le mascherine Mi mettono una mascherina Dio signori miei Che se mi facevano araba araba E mi mettevano di lato Perché la mia mascherina non poteva parlare A un certo punto finalmente Ma non è questa mascherina Io devo fare la domanda Dio ma che parli italiano Io così così Il signor Villeri dice di no Però mi faccio capire Mi faccio Che cosa vuoi? Dice noi pensavamo Ma mi hanno chiesto per la comunitaria Signor Villeri Ah ma che errore Ogni tanto può succedere un errore Grazie Ci siamo? Sì sì E io ci disse No qual è l'idea? Perché mi disse con Mira? Ci disse ma non è che siete razzisti Perché mi vedete così? No Dice no e che vuol dire Ma perché sei venuta qua? Perché voglio il reddito di cittadinanza Ma signora Mimma Ci posso dire una cosa? Bastate tutte precipitando questo reddito di cittadinanza Intanto signora Mimma Il reddito di cittadinanza proposto dai 5 Stelle È una proposta che loro cercheranno di organizzare Non appena andranno al governo Ma tenga presente signora Comunque si parla in generale di reddito di cittadinanza Ma si dovrà anche costituire Che voglio dire signora Che voglio dire signora Che fra quando ci promettono A quando ci dugnano Ci passa un bello picchi tempo Oh A puttare pacienza A puttare pacienza E non è che voi presentate il bello picchiato pozzino Non è che voi state cattando il pollo No no niente Allora per ora è uno schizzo di legge È uno schizzetto di legge No ma non c'è Dico c'è nei programmi Signora Mimma L'hanno a spiegare Perché sennò C'è il programma di una forza politica Che si presenta alle elezioni Nel programma c'è Un menzo di G Un menzo di G Un menzo di G Speriamo Un signor Villa Un signor Villa Un signor Villa La signora Mimma E il reddito di cittadinanza Ma il reddito di cittadinanza è un disegno Ah Cioè uno schizzo Cioè uno schizzo Uno schizzo Poi stanno facendo Quanto costa davvero A cui ce l'hanno Prima a cui ce l'hanno a dare Quanto costa davvero E quando stanno a prendere i soldi Vabbè noi aspettiamo con pazienza Pazienza mi pare la parola giusta Pazienza Pazienza Perché Perché c'è il reddito di cittadinanza Perché c'è il reddito di cittadinanza Perché ovviamente Il Movimento 5 Stelle Riconosce Che ormai La situazione economica Per gli ultimi Cara signora Mimma Poi di paura di sgraziare Che siamo tanti Noi siamo tanti Noi No 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 Ovviamente I soldi non avvicano il tuo territorio E giustamente il Movimento 5 Stelle Secondo il suo credo Vorrebbe aiutare Eh A zappare A zappare A zappare magari Ho capito Però Interviene anche la chiesa adesso Veramente Sì signora Mimma Perché riconosce la chiesa Che il territorio è in grande difficoltà Tutto a zappare Tutto a zappare Tutto a zappare magari E intanto io le voglio presentare comunque un sacerdote A me Sì sì Molto bravo signora Mimma Cesare di Pietro E vediamo Negli anni è sembrato che la diocese di Messina abbia avuto un momento di appannamento nei confronti del territorio Adesso tu hai un incarico importante abbiamo un nuovo vescovo Qual è il cammino che pensate di avere tracciato nei confronti del territorio messinese la diocese di Messina? La chiesa comunque interagisce col territorio in ogni caso A tutti i livelli Dai livelli più capillari Come il laicato Cattolico che fermenta Gli ambienti e le comunità periferiche La Caritas diocesana Che è stata costantemente presente Con le sue case di accoglienza Le sue iniziative I suoi centri di ascolto Su un piano più generale La nostra diocesi È sempre attenta alle dinamiche del territorio In dialogo con tutte le forze vive Perché bisogna mettere in rete i punti di luce Per fare rinascere questa città Che ha veramente a volte le vene aperte Per tutte le sofferenze che rega con sé Prima fra tutte penso alla disoccupazione endemica La fuga dei cervelli La perdita di lavoro di tanti padri di famiglia E quindi la chiesa è chiamata a dare anche delle risposte concrete Se non a fare impresa direttamente Almeno a sollecitare una nuova stagione imprenditoriale Una presa di coscienza da parte degli amministratori pubblici Dei doveri sociali che incombono su ciascuno Circa i servizi sociali Circa la promozione del lavoro Per dare dignità alle singole persone, alle famiglie E anche valorizzare il patrimonio enorme Le risorse di questa città Ah, signor Villari Ha visto quando io vedo dei sacerdoti di questo calibro Io mi li animo Perché lui con questo sguardo, con queste parole Dà uno sguardo, dà una parola di fiducia, di speranza Io non so, ci manco come mi deve essere l'intervista a mia Ma veramente, signora Ma poi dico lei Ma ce la posso dire una cosa, signora Ultimamente la vedo Che frequenta spesso e volentieri L'ambiente dei sacerdoti Dico, non è che sutta sutta Lei si vuole fare parrino Signora Mimma Si ricordi una cosa Che se la chiamata arriva, arriva per tutti Signora Villari, ci posso dire una cosa pure io? Sì Sentisse a mia, staccare il telefono Ma che c'entro il telefono, signora Mimma, finisse Però il ruolo della chiesa Soprattutto in momenti del genere Sempre dovrebbe essere importante Ma soprattutto in momenti di sofferenza È importantissimo Tra l'altro, da quando noi facevamo un momento di gi Cara signora Mimma Abbiamo conosciuto un sacco di sacerdoti Di grande pregio Di grande pregio Ora, io mi scrivia Li salutiamo Ora li salutiamo E intanto Padre Ettore Sentimentale Che è umannare a Santa Teresa Ciao padre Poi Padre Giuseppe Brancato Che era il direttore della Caritas Che adesso è a Salina E' arrivato Don Antonio Basile E ciao, ciao, ciao Poi Di Franco Patti Quel grandissimo sacerdote di Franco Patti Mi raccomando Tenga duro Franco Patti E poi in ultimo Monsignor Accolla Che è il nostro nuovo vescovo Osegui Che è uno giusto Giusto Sì, sì, sì Ora che abbiamo parlato di così tanti personaggi Così grandi Sì, sì, sì Gravi Andiamo Scendiamo più in basso Scendiamo giù Ma da quanto? Assai Ma quanto assai? Mariella No, Mariella no C'è si è aperta una forbice pazzesca Che vuole sapere di Mariella? Ma dico, Mariella Che finifici Tanto mi c'era morto E' nella fase finale della settimana detox Che significa che il martedì è qui? Il martedì è qui Il martedì è qui Ma noia Che c'è? Che non la vuole? No, no, dico Ma noia questa settimana che non c'è fumo Eh vabbè pazienza 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 arriverà tutto Andiamo avanti Ecco Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti? Ma questa è lei presente signor Filippo Ora però signora Mimma Questi atti strani che lei fa Di chi? Può pensare che lei Allora ma se lei dice atti strani Alla gente che sa che cosa pensa A proposito di atti strani Ma lei ieri uno sono andato Fice feste e festine Ma le feste e festine? Perché devo fare feste e festine? È il giorno della donna Tutti vanno fuori Feste No, no, no Io queste cose non ci tengo Non ci sto signor Filippo Per me lei come ha detto ieri Che ha parlato Come uno veramente per bene Il giorno della donna Dovrebbe essere ogni giorno Va celebrata e festeggiata Ah, sono d'accordo con lei È strano che siamo d'accordo Pio, a ieri restai a casa Con Rocco Sì? Ah dunque A festa c'ha Ficerocca a lei Vabbè signora Mimma Che vuole che lei dica Andiamo avanti Andiamo avanti Signora, un fatto su cui ci dobbiamo concentrare È È un fenomeno che purtroppo ormai risulta estremamente dilagante È E che va estremamente combattuto Ma soprattutto per essere combattuto Ci vogliono genitori adeguati e attenti Veramente Sì 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 Giurassi sta pagina Giurassi sta pagina E presentassi sto servizio signora Mimma Ma chi sta cosa mi faccia Mi faccia servire sta cosa Oh Di Federica Zaccone Cyberbullismo Risvolti psicologici Intervista Alla dottoressa Questa è una situazione di questo nuovo fenomeno di bullismo Che è appunto il cyberbullismo Che ha comunque delle caratteristiche E anche delle dinamiche molto diverse Quindi in questo senso anche il profilo diciamo così Della vittima piuttosto che del cyberbullo Vanno ad essere un attimino diversificati e ridefiniti Infatti ci sono degli studi che ad esempio Evidenziano come Chi è stato vittima di bullismo in contesti tradizionali Può ritrovarsi ad essere un cyberbullo Quindi un'inversione di ruoli E così al contempo Chi invece è stato vittima di bullismo online Quindi di cyberbullismo Si può ritrovare ad essere un bullo Nei contesti tradizionali Allo stesso tempo ci sono poi delle ricerche Che evidenziano come Diciamo chi è vittima di bullismo tradizionale Si può ritrovare ad essere vittima Anche di cyberbullismo In una proporzione che va da 2 a 3 volte Allo stesso tempo essere bullo In contesti tradizionali Aumenta la probabilità di essere cyberbullo Di ben 8 volte A di là di questo E partendo dal presupposto Che non ci sono delle caratteristiche Definite di una vittima Piuttosto che di un bullo Di un cyberbullo Possiamo dire che sicuramente Per quanto riguarda la vittima Possiamo ritrovare Bassa autostima Problematiche di ansia Insicurezza Difficoltà emotive Scarsa capacità di risolvere problemi Così come la possibilità Di aver sperimentato Nelle relazioni di dipendenza All'interno del contesto familiare Che poi si ripercuotono Nelle difficoltà Nelle relazioni con i pari Per quanto riguarda invece Il cyberbullo Possiamo ritrovare Allo stesso modo Non assolutistico Scarsa empatia Problematiche emotive E soprattutto Difficoltà a sperimentare Senso di colpa E vergogna Ma 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 Dico io signor Villari Quando vedo queste cose Dico A natura È disgraziata Quando si incapriccia Ma che c'entra A natura Incapricciata Ma scusate Perché vedevo la dottoressa Che bella colta e preparata Poi vado a lei E dico A natura si è incapricciata Vabbè ma signora Io non capisco l'attinenza Fra la dottoressa e mia È che lei ogni cosa Ma apparara male mia Perché apparara male Invece lei apparara male Il fatto che voglio dire Ci sono steliune di tastiera Che la vita affanere La dovete smettere Oh Perché Può fare un esempio di bullismo Io glielo faccio Faccio un esempio di bullismo Signora mia Perché lui lo fa così Poi fosse stato piccolino Avrebbe pensato Diceva La signora mia Mi ha bullonato Io non l'ho bullonato Faccio un esempio di bullismo Ecco Ah Ecco questo è un esempio di bullismo Che è troppo doloroso Non sto là A scrivere le cose Perché Chi sta dietro la tastiera È figliacco Lo volete capire Sì o no Siete dei figliacchetti Perché Non solo siete piccolini Perché siete bambini e ragazzini Siete piccoli di cervello Va bene Le persone Le situazioni Vanno affrontate Face Ah Signora Mimma Se spiegavo Sono più buono sta cosa No 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 Quale è l'ultima cosa Avanti Avanti Si Ci passavo Federica Ora io dico Tu hai questa cosa Che sei esterofila Così si dice signor Vila Non lo so Io non faccio che cosa vuole dire Perciò non faccio Stiamo dicendo una cazzata Intervistare sempre gli stranieri Ma quale stranieri Dico Perché dico Noi psicologi a Messina Non avemmo Che intervistare La dottoressa Calabrese Ma intanto Ma mi fa sciariare Intanto salutiamo gli amici di Reggio Calabria Che abbiamo Anche un fans che ne scriveva avanti Perciò salutiamo Ciao Ma chi si chiama Calabrese Ma è che un messinista da lei Veramente Sì signora mia Ma la affanire Scusi dottoressa Ma ci scusi cortesemente Piacere Andiamo avanti Andiamo avanti Perciò Genitori Che sentite tutte le tacche spingoli Avete a controllare i vostri figli Bravo Che si riducere più babbi voi Bravo Sì signora Mi piace Andiamo avanti Ora che c'è Che c'è Se sottavo signor Vilares Non è che mi sottai signora mia E che fu Però ovviamente Dopo ci arriviamo con una stanchizza Che non finisce mai Giusto Che cosa dobbiamo fare Ci dovremmo riposare Ho capito Ma ancora una notizia abbiamo Ah ecco 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 Come facciamo Mh, mh, mh Me ne riposiamo senza sapere che tempo che fa Viva Dal caglio di Iulio È tempo di navigare Ben trovate alla rubrica meteo Tempo di navigare Sono Elenia Nei prossimi giorni Un treno di perturbazioni di origine oceanica Si prepara ad attraversare Le nostre regioni Interessando principalmente La Sicilia Il ramo frontale freddo Di queste perturbazioni Richiamerà nei bassi strati Un umido flusso da nord che darà origine ad una compatta nuvolosità irregolare capace di dare luogo a qualche pioggia intermittente, soprattutto lungo il ritorale tirrenico e sulla parte nord dello stretto di Messina. Sabato 10 marzo avremo una prevalenza di ampie aree soleggiate con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, aria molto umida proveniente da ovest genererà un po' di nuvolosità che transiterà principalmente sullo stretto di Messina, senza però produrre fenomeni significativi. Temperature piuttosto umidi, con venti che ancora una volta soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. Domenica 11 sarà probabilmente la giornata più calda nel settore tirrenico, per via dei venti di caduta sciroccale. Come accade normalmente in questi casi, sarà molto facile superare la soglia dei 20 gradi. Altrove velature diffuse, elevato da sudumidità tra Peloritani ed Etna, tanto pulviscolo desertico in sospensione, ma in serata assisteremo all'arrivo di un fronte nuvoloso da ovest, che sancirà la fine del flusso sciroccale con nessuna pioggia degna di nota da segnalare complessivamente nel weekend. Per oggi è tutto dalla rubrica Medio Tempo di Navigare, l'appuntamento va alla prossima settimana. Allora noi vi salutiamo, se Dio vuole, martedì mi dispiego per voi, ma purtroppo ci sarà anche Mariella. Tante belle cose. A presto, buon fine settimana e grazie per essere tanti a guardarci. Un bacio signori, amadonnuzza, bellissima a tutti. E basta! E basta! Alla chiudo di, ed eser proposta.